Musica Quindi facciamo qui casa O invenendo il costruttore E' svenuto qualcuno Era arto Per un po' gradare la casa Servire il martello giusto Martello martello Ah merito Posso fregare un'accetta d'arto No La porta la faccio qua in mezzo Fai la specie di scaletta No di qua voglio farla Ah perchè la portiamo fino a qua la base Ah buono E mettiamo qui tutte le spiare attorno Ma possono salire dalle montagne Queste montagnette o no? Sicuro? Non lo so No non si può salire l'acc Da qua si Non so un trick shooter L'acc è impossibile O sei spiderman Oppure usano le scale Quelle che hanno messo Cazzo ma lo posso metterlo Non lo so Come no? Troppo lunga la casa Metti quella triangolare Vedete se la puoi mettere Io farei con un accetto E vado a farmare un pochino Ma viene male Metti quella triangolare Viene male Ma io sono là a me No perchè? La metti anche di qua Qua c'è una specie di ottagono Non si attacca Che cavolo Di qua c'è l'entrata Da dove si entra? Di qua Qua ora farla Vabbè la faccio io va Intanto c'è l'oregna No faccio io Ok Vediamo Adesso triangolare Ah non si può neanche mettere La costruire Basta Allora vi dico che io Ho queste pietre attorno Le voglio trasformare In torrette Ovvio Eh non ci sono giustate Sto cosa Cosa? Che può scusare sto cosa? Ho giustato qua Con un martello Aspetta Martello Martello Lo faccio io Io vi butti lette a terra Quattro Questo lette è mio Mio Ok Io non capisco Dove si sta Arte è assente Ragazzi ci sono i lette Qua a terra Prendeteli Non buttare Vabbè venti ti aiuto A mettere i pillar Ragazzi c'è un letto Cazzo qua non si può mettere Che la toglie o sta fondi Eh allora c'è un pro Aspetta Eh toglierla per forza Ma non si può mettere Perché è dentro le rocce No Venti devi fare una ramba anche di qua No mettiamo questo Come unico ingresso Come un letto via Aspetta No 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 non si può mettere Possiamo espandere di un lato Eh espandiamola di qua Venti Due Ne possiamo mettere Invece da quest'altro lato Ma di là non mettere niente Espandere dall'altro lato Qua mettiamo tutti gli spike Sì sì infatti buttiamo le spike Così non ci entra Ok ho capito Dove fare io Facciamo due entrate Una qua E una di qua Dove è dove è Ok Metto le scale Io metto quelle di qua Sì quando trovi il research Ti puoi metterla dentro Ma è rara No Non penso Oddio guarda di qua Due minuti attorno Colum Metti tutte baricate Cosa del genere Guarda che visuale di qua Dove Venite su sta rocce Tipo togliamo questi alberi qua giù Non penso si possano Vabbè sì ci serve in effetti quella cosa Io metto qua tutte le pillar Pillarose Eh rega dobbiamo farmare come un soccoso Esatto Colum Vuoi farmare come un friggato Rega dove la metto la fornace Non la mettere però Devo metterla No Non mi sento bene Lack non la puoi mettere Aspetta Colum che dici La mettiamo Colum Vabbè la faccio io Cosa è colpa mia La mettiamo una foundation qua Così siccome qua c'è la porta Mettiamo una finestra Qui possiamo vedere se c'è qualcuno davanti alla porta Qua Chi ha 15 di pietra La finestra Sì va 15 di pietra raga chi c'è Sì Io no Le hanno messe per caso le sbarre delle finestre Sì Sì Mi fermo faccio io Ma hanno fatto le texture carine Buon No raga io ho bisogno 15 di pietra Carino Lack nessuna pietra Devi andartela A prendere Non so se in sascia Martello piccola Non serve di quattro Non c'è niente No Là non si può mettere nulla Mettiamo una finestra Un'altra finestra Posso Posso Faccio dalla finestra Mora Quello qua ci serve Un casino di spike Non mettere tutti sti retti Che la dovevo mettere le scale Ti prendete sta roba Ti Putta la terra così Di costruire C'è una terapina di rocce Perché la spike è tua È rotta Ah grazie Scendi dritto Stai Le scale metto Queste Sto scendendo Mettiamo questo Un lupo morto E si ma non lo fa luttare Fa l'ho luttare a quello Che forse funziona Lui è l'esperto Quello per caso servono i pillar Messi al centro della casa o no? Ma credo che aumentano la stabilità Ci sono tre cervo Allora le metto E io vedo Sento una freccia Che tirare? Un cervo è morto A posto Messo in tutti i lati Dove ti amo lo stai? Allora Mettiamo Potenziamo le fondation E l'hack lo sai che forse Vicino Ci abbiamo una red town Oppure qualcosa Di realizzazione Non è una cosa positiva Sì Non è una cosa positiva L'hack fammi venire con voi Perché ho bisogno di farmare Siete usciti sotto C'è il lupo morto? Sì Arriva L'ammazzo 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 Sono io Saltate tutti Sì Siete voi Ok Può fare la chitarra? Guardami in mano Ma vedi sta casa? Guardami in mano Eh sì Carina Raga Ti chiederti qua vicino Che vi tiro un'ancanto sotto i piedi Sì Lo sai che Mentre puoi tirare la granata C'è la probabilità Anche che non esplode Ti esplode addosso Sì Cioè La chitarra Oh la chitarra Mentre la lanci Ti esplode immediatamente La chitarra ci pare Ti può esplodere in mano Mentre la attivi Lanchi quella buona? No Con quella Eh no io quella buona Quello valla a cartare la chitarra Eh ma mi serve 10 di clocce 10 di clocce Io ne ho 16 Non te li do Dai dammi 10 Tieni tieni colo Chi ha animal fatto raga? Dobbiamo fare il piccone Dio Dio L'ho buttata colo Sì che faccio le fornacette Io sono addetto fornacette Ci serve tanta ston Sto facendo Dobbiamo fare il piccone Io ce l'ho già Lei già ha rotto la stonacette cavolo Eh appunto Mi serve molto Regà Io ho bisogno qualcuno Quello accetto devono fare l'ang Ho bisogno qualcuno Io vado a prendere le cose Ho bisogno qualcuno Ho bisogno di prendere le cose che addosso Allora l'avanti capito Ma metà suonare tutto il giorno Archi butta a terra Questa non è venuta La butta a terra Sto faccio la butta a terra Giorgio Io avevo trovato la macchina fotografica Ma che serve? Ti posso fare gli spingi Te la metto Ammano a fare gli spingi Asperate Eh io ho un explosivo Chi vuole Buttato la legna Sbail Con lo tieni? Imparalo Pieno 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 Perché hai preso le cose che ho buttata? Ma lo so Qua ce la scena Mi sa che io li prendo sempre C'è un explosivo Ma chi sta facendo legna? Io sto facendo legna Cioè eh l'arco mi serviva Io non prendo il bario Ecco perché avevo visto l'arco Ecco perché ho preso Ho la chitarra Lack devi trovare il code logger Per forza Vediamo Arriva E' emozionato Colo suona Con il tasto destro Con il tasto destro Con il tasto destro Guarda Colo Stai a tutti i giorni con la chitarra Colo impara qualcosa? Dai Colo Sonoci qualcosa Sembra che è il fucile Infatti Mettiamo la gente con Le cose Ma che caramba Vabbè torniamo a fermare Oh Barille dimmi che trovo Una K Oh il ciavo davanti a casa Foglio di puttana A K No Cioccolato E bende Beh Cioccolata Dark Non hai potenziato Le gunde hai Eh non ho finito la stona Dove sei? Allora sono andato a destra Lack Il vedi? Però non lo trovo sto villaggio Salta Ok ti vedo Ogni mattino Dove sei? Fammi andare in quel villaggio E aiutare i cartelli Vabbè Dai a K Quanto cazzo ne hai fa? Dove sei? Sto prendendo un barile Arrivo Sto chino C'è un legno a terra Voglio Dove c'è il legno? Oh non lo ho visto Non ho trovato niente Nel barile Non ci credo Ah lack è quello Qui laggiù Dai che ma stai ancora registrando Sì sì Dove è Luca? Qua Ma vedi scusa Prendi sta chitaria in mano Che vorrei vedere come sembra A me è aperto sto villaggio Safe Ah ma l'hanno arredato con la scala Sto morendo oddio No l'hanno entrare Che poi non puoi uscire Sì Sono entrato Ma tu E' più di search call E vabbè l'hanno Non ci faccio niente Con search call L'hanno Ho 21 di vita Non voglio morirci Provo ad usare le bende Guarda che Luca C'è ancora una porta chiusa Ah c'è Cavolo L'h qua sotto Perché so Vabbè io provo ad entrare in casa Ma la prendo In che senso Oddio Era bello sto villaggio però Prima che mi ha detto Estrore a scala Sì Io qua nel frattempo Farmo gli alberi Siamo insieme a Lack In un villaggio Svastica Spero sto rompendo l'albero Per vederla meglio Rompiti albero Lack Ce la farei di uscire Sì Da qua folla Vabbè Mostra che potenziale di Pillar E' successo Vabbè Luca Il gioco L'hanno raidato tutto A parte quella Casa di ferro Esci Esci Ma qua c'è la Svastica Esci C'è quello Due spearing Ok L'hanno raidato Colo mi viene da aiutare A potenziale di Pillar Arriva Lack Dovemmo trovare il codelop Esatto Perché senza di quello Ci entrano in casa Lack e Colo Sono tornato a casa Finché hanno trovato il codelop Perché se dobbiamo fare Il coso con le chiavi Sarà scomodo Eh l'abbiamo fatto ieri Il coso con le chiavi E' abbastanza casino Poi se uno muore Dalla chiave a tutti Ma chi ha buttato Se spancho fuori casa Dai che sono arrivato A casa Ah che ci stiamo allontanando Troppo Sono arrivato No Sempre giusto indietro Gianni la stone E ti vedo E buonanatta a tutti